E di matrice dolosa l'incendio che nella tarda serata di mercoledì scorso ha distrutto quattro camion di proprietà dell'azienda Italcalcestruzzi di Celle di Bulgaria. Lo mostrano le immagini delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza. Le fiamme precedute da due boati avvertiti distintamente dai residenti della zona ed anche a diversi chilometri di distanza hanno immediatamente avvolto gli automezzi. Fortunatamente in quel momento non vi erano persone presenti all'interno degli stessi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, i quali, non senza difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme evitando che si propagassero ad altri mezzi dell'azienda. Un avvertimento, un atto intimidatorio nei confronti dell'azienda stessa, è su questo che indagano i carabinieri della compagnia di Sapri coordinati dal capitano Francesco Fedocci. Come detto, la matrice dell'incendio è dolosa. Infatti, le immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'azienda hanno catturato una persona mentre lanciava oggetti infiammabili all'interno delle cabine degli auto articolati prima di darsi alla fuga. Per lui le ore sarebbero contate. Intanto i proprietari dell'azienda si leccano le ferite e contano i danni del rogo che ammonterebbero a poco più di 200.000 euro.